Ma dove l'ho messo? Ciao Mirko! Ciao Monica! Non lo trovo più! Ho guardato in tutto il mio living shot d'axe e niente! Tra l'altro sono anche in un ritardo pazzesco! Tre e mezz'ora al mio corso di tourbile! Ma qualcosa di più tranquillo no? Senti, non mi far perdere tempo e inizio a cercare pure tu qua! Vabbè! Hai già guardato nella tua nuova cucina shot d'axe? Sì però, guarda anche tu! Certo che è proprio bella questa cucina! Perché allora tu non sape cucinare? Si può? Ma certo che possiamo! Ciao marito! Ciao moglie! Monica, ma stai cercando quello che pensiamo noi? Eh sì, proprio quello! Dai, tagliatiamo anche noi! Sì dai, cominciamo dalla camera dal letto! Comodo questo letto! Trovato! E vai! Da shot d'axe un euro vale davvero tanto! Ad ottobre acquistando un arredamento completo da 12.000 euro e aggiungendo un solo euro potete avere un bellissimo divano tre posti! Shot d'axe? Shot d'axe! Shot d'axe! Shot d'axe! T'acca! 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 T'acca!